Ai Weiwei è arrivato in Germania. Partito da Pechino, il più celebre artista cinese è sbarcato a Monaco di Baviera per il suo primo viaggio all'estero dopo quattro anni di divieto d'espatrio, deciso dalle autorità cinesi. Non ho progetti precisi, voglio vedere mio figlio, abita a Berlino, ha spiegato Weiwei. Ad accoglierlo all'aeroporto, la leader del gruppo parlamentare dei Verdi in Baviera, Margarete Bause. L'artista è stato accusato di frode fiscale e detenuto tra inizio aprile e fine giugno. Secondo Weiwei si è trattato di una procedura completamente extragiudiziaria. In ogni caso il clima attorno a questa controversa figura, da sempre critico feroce del governo centrale di Pechino, si è alleggerito negli ultimi mesi in Cina.